Usa lo scudo! Usa le granate intelligenti! Raptor 2-3, arrivo in appoggio. Il nostro trasporto! Al Warbird, Mitchell! Al Warbird! E così abbiamo un nuovo operativo. Direi di sì, signore. Ora basta, simulazioni. Bravo, Mitchell. Benvenuto in Atlas. Grazie. Dopo la Corea pensavo di essere finito, ma Irons mi aveva dato un nuovo scopo. Un conto è avere un'occasione. Un altro, dimostrare di meritarsela. Ho potuto farlo appena due mesi dopo. Non più di 12 ore fa, il premier nigeriano Samuel Abidoyo è stato preso in ostaggio al summit internazionale della tecnologia di Lagos. Riteniamo sia opera del KVA, un gruppo terroristico antioccidentale fondato da ex separatisti ceceni. Il nascondiglio e l'identità del suo leader, nome in codice ADES, restano ignoti. Il movente non è chiaro, ma questo rapimento è l'apice di un'escalation di attacchi attribuiti al KVA negli ultimi anni. Dovete unirvi alle forze nazionali al comando del capitano Ajani e agire per il rilascio immediato del premier. Non sanno come si salva un ostaggio. Glielo mostreremo. Dai, ragazzino. Sì, dammi solo un attimo. Sto... Sto ancora sincronizzando. Ok. Ci sono. Questi cosi non sono affatto male. Non affezionarti ai giocattoli. Alla fine, quel che conta è il soldato Caliust. Gideon, gli mettono in posizione. Iniziamo le operazioni al tuo segnale. Ok, cinque minuti. E vedi di non farci ammazzare tutti, ragazzino. Reggio avuto. A te. Drone in volo. Trasmissione feed. Mi raccomando. Ecco l'edificio versatio. Due uomini alla finestra. Di fila. KVA Multipli. Stanza sud. Secondo piano. Muoversi. In posizione. Ecco la sala conferenze. Ehi, senti. Ehi, io sono l'unico che ci serve, ok? Ecco il primo ministro. È lui. Avvio scansione facciale. Mi ha curato subito. Lo facciamo fuori. Il premio era la priorità. Siamo nati... Per morire. Colpevoli. O innocenti. È questione di quando... E di come. Senti. È il nostro signore a deciderlo. Ucciderlo non servirà a niente. Ti stai sbagliando. Ucciderlo servirà a molto. Profet. Hanno appena ucciso un ostaggio. Interveniamo. Bene, gente. Abbiamo via libera. Tre minuti ad alfa. Tempo. Se attacchiamo, uccideranno il premier. Lo faranno comunque. Dobbiamo salvarlo. Facciamo presto. Arriva un fiddling dal comando. Fate vedere di cosa è capace Atlas. Il KVA terrorizza la regione da troppo tempo. È ora di mandare un messaggio. Basterà una stretta di mano del premier per far cambiare faccia a questo paese. Non voglio mettervi sotto pressione. Ma salvatelo. Pressione? Quando mai? Buona fortuna. Chiusa. Mitchell. Sfonda. Esercito migiliato. Arrendetemi subito. I miei sono in posizione. Nessuno spara se non lo dico io. Ricevuto. Andiamo. Lasciate l'edificio e non vi sarà fatto alcun male. Gettate le armi! Esercito migiliato. Arrendetevi subito. Lasciate l'edificio e non vi sarà fatto alcun male. Guanti magnetici. Superi il muro. Gettendo. No. No. A rilassi. No. 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 Michel, prepara la carica muta. Stanza ostaggi, cento metri. Di qua. Profet, parimetro superato. Ci dirigiamo all'obiettivo. Ritrovato a 2-1. Via. Libero. Diamo un'occhiata. Michel, Joker, a voi. Cosa può essere? Impulso armonico. Rileva la più densità attraverso ogni cosa. Si comincia. Michel, guarda bene. Rileviamo 4k-1 nella stanza. Marcaline. Ti faremo fuori insieme. Inizia tu, Michel. Nemici agganciati. Quando vuoi. Fuoco. Bersaglio confermato. Nemici agganciati. Falli fuori. Quando vuoi. Fuoco. Hanno un ostaggio. Nemici agganciati. Nemici agganciati. Squadra Atlas, fermi tutti! Tutti eliminati. Ades se l'è svignata. Non importa. Michel, il Premier! Hanno preso tutti gli ostaggi e tecnici del nostro summit. Il KVA voleva loro, non noi. Ajane! Eh, cosa? Li abbiamo appena visti in un fogone. Colore! Eh? Colore? Bianco! Posizione! Dove? Lasciano il centro. Ok, andiamo. Alpha si prende la cura di lei. Signore, sarà al sicuro. Grazie, soldato. 2-1, abbiamo il feed di un veicolo bianco su Independence Road. In movimento a sud-ovest rispetto a voi. Roger! Roger! Traffico di merda. Grazie, grazie.